Buongiorno a tutti e a tutte. Mi chiamo Ivana Padoan, dirigo il Master in Studi di Genere e Social Change della Ca' Foscari Challenge School. Il Master intende formare professionisti delle pratiche di mainstreaming di genere, di tutti coloro che operano nell'ambito delle pari opportunità e che operano anche nell'ambito dell'innovazione professionale rispetto al problema di genere. Questo Master lavora su 4-5 ambiti, in particolare la rivisitazione culturale delle problematiche di genere e quindi attraverso tutte le discipline, le aree interdisciplinari, sulle problematiche dei diritti, sulle problematiche delle norme, delle direttive istituzionali che in Europa ma anche in tutto il mondo, stando andando avanti, interviene sulle pratiche quotidiane di vita coniugale e sociale, delle azioni formative e educative di base contro le stereotipie di genere e interviene in particolar modo sulle disuguaglianze di genere connotate da tutta una serie di comportamenti che vanno dal gender balance, che vanno dal gender pay, ma anche e soprattutto della violenza di genere. Questo Master ha come interlocutori i professionisti, ma anche studenti, ma anche persone che vivono nelle istituzioni, che vivono nelle imprese, che intendono modificare il trend della disuguaglianza di genere in tutta la vita e nell'esistenza quotidiana di tutte noi. Per ulteriori informazioni bisogna andare sul sito della Challenge School.